Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer Il fenomeno, l'oggettità dell'unica volontà di vivere è il mondo. In tutta la molteplicità delle sue parti e figure, l'essere è il modo dell'essere, del tutto come in ciascuna parte, è costituito solo dalla volontà. Essa è libera, essa è onnipotente. In ogni cosa appare la volontà, quale essa medesima in sé e fuori del tempo si determina. Il mondo non è che lo specchio di questo volere, ed ogni limitazione, ogni male, ogni tormento che il mondo contiene appartengono all'espressione di ciò che la volontà vuole. Sono quali sono, perché essa così vuole. È rigorosa giustizia, quindi, che ogni creatura sopporti l'essere in genere, e quindi l'essere della sua specie e della sua particolare individualità, interamente come essa è, e in condizioni quale esse sono, in un mondo quale esso è, governato dal caso e dall'errore, temporaneo, effimero, ogni ora sofferente, e qualunque sorte le tocchi, qualunque le possa toccare, sarà sempre giustizia. La responsabilità dell'essere e della continuazione del mondo può essa solamente, e nessun altro, portare, poiché come potrebbe un altro assumerla per sé? Se si vuol vedere ciò che gli uomini, moralmente considerati, sono in tutto e per tutto, si consideri in tutto e per tutto il loro destino. Esso è penuria, miseria, strazio, tormento e morte. L'eterna giustizia impera. Se essi non fossero presi collettivamente, così da poco, non sarebbe neppure il loro destino collettivamente preso, così triste. In questo senso, possiamo dire, il mondo stesso è il giudizio universale. Se si potesse mettere in un piatto di bilancia tutto il dolore del mondo, e tutta la colpa del mondo dell'altra, la bilancia starebbe sicuramente in bilico. Certo che alla conoscenza, quale essa, dalla volontà in proprio servizio generata, si forma nell'individuo in quanto tale, il mondo non appare come da ultimo si disvela all'osservatore, ossia come oggettità dell'una e unica volontà di vivere, che è l'individuo medesimo. Invece il velo di Maya, come dicono gli indiani, turba lo sguardo dell'inconscio individuo. A lui, in luogo della cosa e in sé, apparisce solo il fenomeno del tempo e nello spazio, nel principio individuazionis, e nelle rimanenti forme del principio di ragione. In questa limitata cognizione, non vede l'essenza delle cose, che è unica, bensì i suoi fenomeni, distinti, disgiunti, innumerevoli, contraddittori. Gli apparisce allora il piacere come alcun chedi affatto diverso dal dolore. In un uomo, vede la guzzino e l'assassino, in un altro il paziente e la vittima, distinte come due unità indipendenti, sono per lui la cattiveria e la sofferenza. Vede taluno vivere nella gioia, nella sovrabbondanza, nei piaceri, e contemporaneamente altri morire di penuria e di freddo, innanzi alla sua porta. Allora si domanda, dov'è la compensazione? Ed egli medesimo, nel violento impulso della volontà, che è sua origine e sua essenza, si aggrappa ai piaceri e ai godimenti della vita, vi si tiene fortemente stretto, non sapendo che appunto per questo atto della sua volontà, egli afferra e stringe a sé tutti quei dolori e tormenti della vita alla cui vista rabbrividisce. Vede la sofferenza, vede la malvagità nel mondo, ma lungi dal riconoscere che entrambe non sono, se non diverse facce del fenomeno, dell'unica volontà di vivere. Le crede molto diverse, anzi addirittura opposte, e cerca spesso, mediante la malvagità, ossia cagionando il male altrui, di sfuggire al dolore, alla sofferenza del proprio individuo, circoscritto nel principio individuazionis, ingannato dal velo di maia. Imperro che, come sull'infuriante mare, che per tutti i lati di infinito, ululando montagne d'acqua innalza e precipita, siede in barca il navigante, e se affida al debole naviglio, così siede tranquillo in mezzo a un punto pieno di tormenti il singolo uomo, poggiandosi fidente sul principio individuazionis, ossia sul modo onde l'individuo conosce le cose, in quanto fenomeno. Lo sconfinato mondo, pieno di mali ovunque, nell'infinito passato, nell'infinito futuro, e a lui è straniero, anzi, è a lui come una fiabba, la sua infinitesima persona, il suo presente privo d'estensione, il suo momentaneo benessere, hanno soli realtà ai suoi occhi, e per conservarli, fa di tutto, fin quando, una miglior conoscenza, non gli illumini la vista. Fino allora, vive appena nella più intima profondità della sua coscienza, l'oscurissimo sentore, che quel mondo non gli sia poi veramente tanto straniero, bensì abbia in lui una relazione, dalla quale il principium individuazionis non può proteggerlo. Da codesto, presentimento, viene quell'invincibile terrore, comune a tutti gli uomini, e forse anche agli animali più intelligenti, che li coglie all'improvviso, quando per un caso, purché sia, smarriscono la guida del principi individuazionis, allorché il principio di ragione, in una qualunque delle sue forme, sembra avere un'eccezione. Per esempio, quando pare che si produca una mutazione senza causa, o un morto ritorni, o in qualsiasi maniera il passato o il futuro si facciano presenti, o il lontano vicino. L'orribile sbigottimento per tali cose, si fonda sul fatto, che essi, si smarriscono rispetto alle forme conoscitive del fenomeno, le quali sole tengono distinto il loro proprio individuo dal resto del mondo. Ma tale distinzione sta semplicemente nel fenomeno e non nella cosa in sé. Su ciò, appunto, poggia l'eterna giustizia. In effetti, ogni godimento temporale si basa ed ogni saggezza si muove sopra un terreno minato. Godimento e saggezza proteggono l'uomo dalle sventure e gli procacciano piaceri, ma la personalità è semplice fenomeno e la sua varietà dagli altri individui, nonché l'esser priva dei dolori che questi sopportano, dipendono dalla forma del fenomeno, dal principio individuazionis. Secondo la vera essenza delle cose, ciascuno ha da considerare come propri tutti i dolori del mondo, anzi tutti i dolori possibili come avere reali per sé, fin quando egli è deliberata volontà di vivere, ossia afferma con ogni forza la vita. Per la conoscenza, che vede più lontano del principio individuazionis, una vita temporale, felice, donata al caso o a lui strappata con saggezza fra dolori innumerevoli altrui, è nient'altro che il sogno d'un mendico in cui questi si vegga re, ma per apprendere al risveglio che solo una fuggitiva illusione l'aveva separato dai dolori della sua vita. Allo sguardo circoscritto della conoscenza che segue il principio di ragione, nel principio individuazionis si sottrae l'eterna giustizia. Quello non ha punto cognizione di lei, a men che non la consegua mediante finzioni. Vede il malvagio, che ha commesso misfatti e crudeltà ad ogni maniera, vivere nei piaceri e uscirsene indisturbato dal mondo. Vede l'oppresso trascinare una vita piena fino all'ultimo di dolori, senza che si mostri un vendicatore, un compensatore. Ma l'eterna giustizia sarà compresa sol da colui che si eleva su quella conoscenza procedente, sulla traccia del principio di ragione e legata ai singoli oggetti. Da colui che conosce le idee, penetra con l'occhio oltre il principio individuazionis e comprende che alla cosa in sé non toccano le forme del fenomeno. Questi solamente, in grazia della stessa conoscenza, può comprendere la vera essenza della virtù. Secondo, ci verrà presto chiarito nel rapporto con la presente trattazione, sebbene per la pratica della virtù non sia appunto domandata cotesta conoscenza in abstracto. Chi adunque è pervenuto alla suddetta conoscenza intende chiaramente che essendo la volontà l'in sé di tutti i fenomeni, l'affanno inflitto altruio personalmente sofferto, la malvagità e il dolore colpiscono pur sempre l'una e identica essenza, anche se i fenomeni in cui questa e quella condizione si manifestano esistono come individui distinti e addirittura separati da tempi e spazi lontani. Intende che la differenza da ciò che produce il dolore a ciò che deve sopportarla è semplice fenomeno e non tocca la cosa in sé, ossia è la volontà in entrambi vivente, la quale, ingannata dalla conoscenza avvinta al suo servigio, se stessa disconosce in uno dei propri fenomeni cercando accresciuto benessere, mentre nell'altro produce gran dolore. E così, con violento impulso, ficca i denti nella sua carne medesima, non sapendo che ognora se stessa unicamente ferisce, palesando in tal modo per il mezzo dell'individuazione il contrasto interiore che la trae nel suo intimo. Il tormentatore e il tormentato sono tutt'uno, quegli erra nel non ritenersi partecipi del tormento, erra quegli questi del non ritenersi partecipi della colpa. Ove si aprissero a entrambi gli occhi, quegli che infligge dolore conoscerebbe il vivere in tutto quanto sul vasto mondo patisce tormento e in vano si chiede se dotato di ragione perché sia stato chiamato a esistere in si grandi dolori che non sa di aver meritati e il tormentato conoscerebbe che ogni malvagità la quale viene commessa o fu un giorno commessa sulla terra procede da quella volontà che costituisce anche l'essere suo che anche in lui si manifesta. Mediante ecotesto fenomeno e per la sua affermazione egli ha preso su di sé tutti i dolori che da tale volontà promanano e giustamente li soffre fin quando egli è quella volontà. Da questa conoscenza muove il veggente poeta Calderon in La vita è sogno poiché il delitto maggiore dell'uomo è l'essere nato. Come non dovrebbe essere una colpa poiché per una eterna legge sovra vincombe la morte? Calderon non fece che esprimere in quel versetto il dogma cristiano del peccato originale. La vivente conoscenza dell'eterna giustizia del bilanciere che inseparabilmente congiunge il malum inculpe col malo pene richiede completa elevazione sulla individualità e sul principio che la fa possibile. Essa rimarrà quindi alla più parte degli uomini ogni ora inaccessibile come anche la fine condizione pura e limpida dell'essenza di tutte le virtù la quale verrà tosto chiarita. Perciò i sapienti primi padri del popolo indiano l'espressero sinei veda i quali erano permessi soltanto alle tre caste rigenerate ossia nella dottrina esoterica direttamente fin dove concesso e lingua l'afferrano e la loro maniera di esposizione ancora immaginativa e anche rapsodica consente ma nella religione popolare o dottrina esoterica l'hanno comunicata sol miticamente la rappresentazione diretta la troviamo in varie guise espressa nei veda il frutto della più alta conoscenza e sapienza umana il cui nocciolo è finalmente prevenuto a noi nell'eupanishad espressa particolarmente nel fatto che davanti allo sguardo del discepolo si fanno sfilare per ordine tutti quanti gli esseri del mondo viventi e inanimati e per ciascuno viene ripetuto quel detto che è divenuto una formula e si chiama come tale ma avacchia tautomes o più espressamente tat tvam asi che significa questo tu sei ma al popolo questa grande verità venne tradotta fin dove esso poteva afferrarla con la propria limitazione nel modo di conoscenza retto dal principio di ragione il qual modo per sua natura non può punto accogliere tale verità pura in sé che anzi sta con essa in diretta opposizione bensì ne ha ricevuto un surrogato nella forma del mito il surrogato era sufficiente come regola per l'azione rendendo afferrabile mediante rappresentazione figurata il valore etico di quella pur nella forma di conoscenza regolata dal principio di ragione che a tal valore rimane eternamente straniera ecco desto è lo scopo di tutte le dottrine religiose essendo esse in genere rivestimenti mitici delle verità impenetrabili della rozza mente umana quel mito si potrebbe in questo senso chiamare nel linguaggio di Kant un postulato della ragione pratica ma come tale considerato ha il grande vantaggio di non contenere nessun elemento che non stia davanti agli occhi del dominio della realtà e quindi può tutti i suoi concetti documentare con intuizioni il mito a cui alludo è quello della migrazione delle anime esso insegna come tutti i dolori che nella vita si infliggono ad altri esseri in una vita successiva su questo stesso mondo devono essere scontati e precisamente coi medesimi dolori e ciò va tanto lontano che chi uccide anche un semplice animale rinascerà un giorno nel tempo infinito con la forma di codesto animale e subirà la stessa morte in segna che cattiva condotta trae con sé una futura vita in questo mondo in forma ad esseri miseri e spregiati che si rinascerà quindi in caste inferiori o donna o animale o paria o ciandala o lebroso o coccodrillo e così via tutti gli affanni che il mito minaccia documenta con intuizioni tratte dalla vita reale mediante creature dolorose le quali seppur sanno come abbiano meritata la loro pena e non gli ha bisogna di prendere per appoggio nessun altro inferno come ricompensa invece promette rinascita in forme migliori e più nobili quale bramano quale sapiente quale santo la più alta ricompensa che attende gli animi più nobili e la più compiuta rassegnazione ricompensa concessa anche alla donna che in sette vite successive volontariamente sia morta sul rogo del marito come all'uomo la cui bocca pura non abbia mai pronunziato una sola menzogna può il mito esprimerla solo negativamente nel linguaggio terreno mediante la promessa tanto spesso ripetuta di non più rinascere oppure come le esprimono i buddhisti che non ammettono né i veda nelle caste tu raggiungerai il nirvana ossia uno stato in cui non sono quattro cose nascita età malattia e morte non mai un mito si è accostato più strettamente non mai si accosterà alla verità filosofica cui si pochi uomini possono salire come fa questa remotissima dottrina del più nobile e più antico popolo nel quale essa per quanto in molte parti tralignata regna non di meno tuttora come fede generale ed ha sulla vita un effettivo influsso oggi come quattro millenni or sono questo non plus ultra di rappresentazione mitica hanno quindi di già Pitagora e Platone accolto con ammirazione e tratto dall'India o dall'Egitto e onorato e applicato e non sappiamo fino a qual punto essi stessi creduto noi invece spediamo oramai ai bramini clergymen inglesi e fratelli moravi esercenti la tessitura per ammonirli compassionevolmente di una verità superiore e spiegar loro che sono creati dal nulla e che di ciò devono con gratitudine rallegrarsi ma ci succede come chi tira una palla contro una roccia in India non potranno mettere mai radice le nostre prigioni la sapienza originaria dell'uman genere non sarà soppiantata dagli accidenti successi in Galilea viceversa torna l'indiana sapienza a fluire verso l'Europa e produrrà una fondamentale mutazione nel nostro sapere e pensare grazie grazie